papà torna subito qui andiamo è venuto il momento di pensare un po me come metto in tasca una bella ripetazione e chi s'è visto si è visto che bella dei 1720 euro è quello che è rimasto del tuo tfr smettila di fare il bambino tu vuoi trovarmi una badante voglio un escort tu sei disoccupato e c'è gente che rifiuta 5.000 euro al mese per farla badante tu sei un uomo quello vuole una donna sentito male ammazzami è naturale mi sono fatto molto male sai ma scusi non ci siamo già visti noi miami india assolutamente no mi scambi per qualcun'altra sa che cosa c'è che sento di esprimere tutta la mia praturperanza vinti e trì c'ha il calchetto ma che c'hai in mezzo alle gambe da mongola a me la vita rirà massimo ti ho fatto uno scherzetto hai preso lo stringicolo ma lo sai che assomigli tremendamente alla badante del presidente il problema della cazzo lo teniamo per carità cristiana cosa è diventata questa città ma sai che sono molto felice di averla incontrata anch'io tanto eh no non mi diventi materiale guarda e sfugo dal mio carma non so che mi esalta